Sono 52 oggi in Abruzzo ai nuovi positivi di età compresa tra i 3 e i 78 anni. La suddivisione dei casi per fasce territoriali evidenzia che ancora una volta Pescara, la provincia più colpita, con 18 casi, seguita da Teramo con 17, dalla provincia dell'Aquida con 10 e infine dalla provincia di Chieti con 4, mentre altri 3 casi sono con residenza ancora in accertamento. Fortunatamente anche oggi non si registra nessun deceduto a causa del Covid. Questa buona notizia bilancia quella meno bella del sostanziale aumento dei contagi, soprattutto a causa della variante Delta. Sono stati eseguiti inoltre 2.004 tamponi molecolari e 3.209 test antigenici con un tasso di positività all'1%. Il numero complessivo dei guariti raggiunge inoltre quota 71.890 con un solo altro paziente in più che ha superato il Covid rispetto a ieri, mentre aumentano anche gli attualmente positivi che sono 990, 51 in più rispetto a ieri. In sostanziale equilibrio la situazione negli ospedali abruzzesi dove diminuiscono di un'unità i ricoverati in area medica che sono 21 e dove resta ormai da giorni un solo ricoverato in terapia intensiva, mentre sono 958, 52 più di ieri i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle AS di competenza. Grazie a tutti.